La sofferenza invisibile non si nasconde davanti a Dio. Anche le ferite più antiche non vengono dimenticate. Lui le conosce, le vede e vuole guarirti. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe, dice il Signore. Geremia 30, 17. Lui promette anche di consolarti e di porre fine alla tua guerra. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Isaia 40, 1, 2. Gesù conosce le tue sofferenze, anche quelle della tua infanzia, anche se sono passati anni e hai fatto di tutto per seppellirla nel profondo. Il Padre Celeste vuole spalmare il balsamo curativo sul tuo cuore e guarirti. Gesù stesso guarirà il tuo cuore. Lo Spirito del Signore è su di me, perché mi ha consacrato con l'unzione per predicare il Vangelo ai poveri. Mi ha mandato per guarire chi ha il cuore spezzato. Luca 4, 18. Non avere paura, la sua mano è gentile, il suo tocco gentile. Non ti farà mai del male. Vuole toglierti la spina, il dolore che a volte ti travolge ancora. Gesù è l'unico che conosce perfettamente dal primo giorno della tua storia fino ad oggi. Caro amico, fidati di Lui. Non conosco nessun altro medico così compassionevole e completamente qualificato per prendersi cura di te e guarirti. L'ha fatto per me e vuole farlo per te, ne sono convinto. Grazie di esistere. Eric Sellerie Grazie di esistere.